Vladimir Putin presidente della Russia sono convinto che Vladimir Putin verrà eretto come nuovo presidente di questo importante paese enorme a livello territoriale sarà dunque il quinto mandato che impedirà protagonista allo zar russo per eccellenza lui Vladimir Putin come presidente confermato di nuovo per la sua quinta volta consecutiva come ha fatto a vincere, come fa a vincere è presto detto vi ricordo infatti che non ci sono rivali politici di Putin non ci sono dei candidati che si candidano a sostituirlo anche perché vi ricordo che se qualcuno malaguratamente parlando potesse andare a candidarsi per sfidare Putin con ogni probabilità verrà fatto fuori da Putin o meno un mandante che lui deciderà di scegliere che lo andrà a uccidere o andrà a uccidere se fosse la fermia o no quindi è chiaro che nessuno si candida per sostituirlo nel ruolo di nuovo presidente della Russia o nuova presidente della Russia insomma diciamo così una vicenda abbastanza incredibile al zar da dire particolare quella che riguarda lo zar russo per eccellenza che soltanto la morte potrà un giorno dividere la Russia da Putin e Putin dalla Russia in qualità di presidente vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video oggi iscrivetevi e commentate una buona giornata